Su richiesta della prefettura di Reggio Calabria, ANAS ha inviato due spazzatrici stradali all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. La richiesta è stata dettata dall'attività eruttiva dell'Etna, avvenuta nelle ultime ore, che anche a causa dei venti provenienti da sud ha coperto di cenere la pista dell'aeroporto, precludendone l'operatività. Dopo l'invito della prefettura, ANAS si è immediatamente attivata e i propri mezzi hanno operato per tutta la notte, per garantire il ripristino delle condizioni di esercizio dello scalo. Lo spazzamento della pista è terminato e l'aeroporto è tornato operativo con il volo delle 10.30.